bella vecchietra, noi siamo i granals e siamo tornati con un nuovo video qui sul nostro canale ed oggi portiamo un video un po' diverso dal solito perché abbiamo deciso, dopo tanti e tanti episodi di Rotto Division One e Non di fare cosa? di portarvi un video diverso, ovvero di portarvi la classifica di gol migliore che abbiamo fatto in questi tantissimi episodi che abbiamo fatto prima ora e un tanto ho dato una gomitata e mi sono sponato un gomito comunque va bene ma con noi chi ci sarà? ci saranno dei ragazzi o meglio, uno di loro perché gli altri, se no non ci entravamo, c'era tipo un'orgia quindi ci sarà uno di loro, ovvero i French Toast e in questo caso a rappresentarci c'è Sufuru ciao ragazzi loro praticamente nel loro canale hanno avuto un'idea geniale quella di fare gol DJ con i gol degli youtubers esatto quindi loro ci hanno mandato un messaggio sulla pagina e ci hanno detto guardate questo video, noi l'abbiamo visto e ci è piaciuto molto il format e quindi abbiamo detto facciamo un video insieme noi prendiamo in prestito la vostra idea in compenso vi facciamo un po' di visibilità al vostro format che merita parecchio quindi qua in descrizione ci sarà il loro link vi raccomando passateci e andate a vedere appunto cosa fanno loro perché qui lo vedrete soltanto con i nostri gol mentre loro sul loro canale lo fanno con i video di tutti gli youtubers quindi partiamo con la classifica al numero 10 c'è lui pisellone numero 15 perché sono 15 sono 15 c'è pisellone in barbo pisellone in barbo incredibile segnato di cazzo lui questo gol ce lo guardiamo molto bene perché era con la serie A quando avevamo la rossa della serie A the prototype cascade alla quattordicesima posizione abbiamo Eric Lamela e questo qua è un angle della road 21 una goal che abbiamo fatto tra tipo ogni goal qualcosa non mi ricordo che era ogni goal non lo so una scossa era un po' terzo sempre io quindi posizione numero 14 è Tobu con 7 spectre questo è sempre un gol dell'8 division 1 un gol bellissimo spettacolare è andata da un'azione dove lui finalmente è riuscito a fare un passaggio perché di solito non passa mai e io di pallonetto scavalco il portiere è un gol incredibile di Schweinsteiger la canzone è shine electric joyride origin comunque prima di come continuare vorremmo dirvi che molti video li vedrete tagliati perché quando siamo in fase di editing abbiamo allargato la facecam quindi non si vedeva il video intero e quindi lo vedete come questo qua per esempio che è il gol di Lewandowski mamma mia che messia Lewandowski quando avevamo la Bundesliga e la canzone è Robo Kids Kids adesso abbiamo un altro pisellone non so se c'è no vabbè probabilmente probabilmente è pisellone e dopo diciamo era un gol del road che è stato uno dei gol più strani mai fatti perché tre pali è successo di tutto il gol rocamboleschi e il gol è di Seidu Dumbia con la canzone Tobu Colos Dumbia Dumbia lost non so se non so non sa ma non so se non lo fa qualcosa e però non lo fa c'è Electro Light The Edge Di nuovo lui, Robert Lewandowski Che in questa azione Fantastico, si fa tutto il campo La canzone è Laszlo Step Away Un gran gol di Rodrigo Palaccio Una delle poche partite che ha giocato con noi Che si porta avanti la palla di tacco E poi incrocia Però io l'ho sempre detto che è un fenomeno La canzone in questa posizione è Disfigure Blah Uno dei gol che io sono abituato a fare Perché li faccio solo io Li faccio sempre, soprattutto Tiro da la tre quarti Bomba rara Il gol di Jonathan Biabianier Jonas, Girl of Summer Altro gol fantastico Partendo dal centrocampo Di Freddy Guanin Il guano Upper West Run This Time Alla quinta posizione Alla quinta Alla quinta Alla quinta posizione Una grandissima punizione Di Hernanes La canzone per questa bellissima punizione È Elefante Temporary Love Questo gol è un gol stupendo Da centrocampo Con Daniele De Rossi Praticamente Tira da lì Da casa sua Per questo bellissimo gol Da centrocampo Abbiamo i Chainsmokers Con Let You Go Alla seconda posizione abbiamo un grandissimo gol di Di Maria Sempre da fuori area Con lui che ride E la palla va sotto al sette Si interna con il destro La canzone della seconda posizione E Eriks con Nova E la palla va sotto al sette E la palla va sotto al sette E la palla va sotto al sette E mi raccomando Mi raccomando andate a guardare i loro Perché sono veramente spettacolari Perciò Se vi è piaciuto questo video Lasciamo sette mila like Perché se ne merita Si Giusto Si si E niente Noi ci bicchiamo sempre al prossimo video Dai Grananas è tutto E da Supuro è tutto Bella ragazzi Belli Bella